Tra qualche giorno inizia l'Arena Virgilio, sicuramente un palcoscenico importante, un evento che offre un servizio ai turisti, ai cittadini di Gaeta, ai cittadini del Golfo e alla stessa maniera diventa anche un mezzo, uno strumento per promuovere la città di Gaeta sul territorio nazionale. Quest'anno grandi artisti, da Battista a uno dei cantanti che è sicuramente nel cuore dell'italiano, che è Venditti e poi il trio De Martino, Biagio Izzo, l'orchestra internazionale di Roma e quindi un partena importante che attrae più cittadini, più turisti nella nostra città e che fa godere uno spettacolo unico che quest'anno verrà realizzato nello splendido scenario dell'area dell'Exavir, un complesso, un'area di archeologia industriale importante al centro della città di Gaeta, quindi in una zona nevralgica che deve essere assolutamente uno spazio culturale, uno spazio che accoglie, uno spazio vitale per lo sviluppo economico del territorio gaetano. Grazie a tutti.